Musica Ben ragazzi come perché bentornati in questo nuovo video di Minecraft Ragazzi siamo tornati finalmente sulla Pixemon GX E come vedete, come sempre, ormai è consuetudine Oggi ritorno alla caccia ai boss legendari Lo scorso episodio, oddio, quello che ho fatto appunto Sui boss legendari mi è piaciuto un sacco E ancora ce ne sono un pochino da battere E oggi subito ho trovato così un Mediciama 95 E speriamo da subito davvero di farlo fuori Vediamo perché vediamo se abbiamo detto che tipo Vollo su questi Pokémon Ma non vedo niente Proviamo a fargli un Thunder Wave Magari lo paralizziamo Ok, questo credo sia la miglior cosa che potevamo fargli Un bel Dragon Rush, il nostro Dragonite ha tolto un terzo di vita E forse riusciamo anche a farlo fuori col Dragonite Ebbene no, perché anche sui paralizzato ci attacca perché c'ha voglia Comunque vediamo un attimo che attacchi abbiamo anche sul nostro bellissimo Salamence Che adesso mega evolviamo in un gigantesco Salamence Ragazzi se ancora non avete fatto iscritto al canale Perché è davvero molto importante Ci sono ancora molte persone che seguono la Pixemon GX Ma ancora non sono iscritte Quindi oggi per diventare un vero cacciatore come me di boss legendari Deve iscrivere il canale E magari potrei fare una skin solo per l'episodio in cui vado a fare il cacciatore di boss legendari A modi tipo Indiana Jones Tipo tecca la skin di Indiana Jones se non sbaglio Scrivete questo nei commenti perché mi sembra che sia appunto di Indiana Jones Comunque abbiamo anche un mega Taranitar dietro che si presenta in quel modo Però è boss normale, non è boss legendario Questa cosa a me non piace moltissimo Comunque ora ormai un altro Dragon Brief e il nostro bellissimo Medicham ci saluta Ciao Bomber Sì però il cartino rosso io non lo voglio Quindi droppiamo tutto quanto il drop Là in alto cos'è quel robo là? Ok mi sembrava uno spiro, un firo, una roba del genere Però niente L'Absol lì? Questo Absol qua ha un colore diverso rispetto ad un Absol normale Vediamo se anche lui è un boss legendario E no invece è un raro Strano perché l'Absol non mi ricorda quel tipo di colore Comunque fa niente È molto carino l'Absol Anche se gli ho inquadrato il culo però Lasciamo stare Il Tyranitar non mi mette neanche a fightarlo Perché comunque è un boss normale Quindi non mi interessa Ragazzi Cosa volete vedere nel prossimo episodio della Pixar? Fatemelo sapere qua sotto Magari una sfida in collaborazione con qualcuno Molto importante Farmelo sapere E soprattutto ragazzi Quello vi ho promesso settimana prossima Vi porterò il video sulla palestra Ma in più ragazzi Settimana prossima Andremo alla caccia Di Solgaleo O di Lunala Quindi mi raccomando Lasciate un bel mi piace Un bel commento ragazzi Se volete davvero la cattura del Solgaleo Dovete spaccare questo video di mi piace Poi è finita la scuola Quindi non perdetevi tutti gli altri video Della Pixelmon GX Che usciranno da qui in avanti Comunque Tiriamo dritti E andiamo a healare un attimo i nostri Pokémon Perché il Raichu Come sempre ormai Diamo un occhio Vedete che il Raichu Comunque non ha nessun tipo di oggetto Quindi non è neanche per questo motivo Che il Raichu Ad ogni fight Parte sempre Con metà Vita Non so perché Ma c'è questo bug E non riusciamo nemmeno a spiegarcelo Comunque Se mi heal i Pokémon Grazie mille Healer Mi fa un favore Diamo un occhio comunque in questa zona Perché secondo me Boss legendari Ne esponeranno a bizzeffe Tra un pochino E infatti Ho chiamato un boss legendario E guardatele in fondo Un altro boss legendario L'ennesimo Quando mi lancio a questi dirupi ragazzi Faccio una cosa molto molto strana Perché Premo il tastino Che uso su Fortnite Per costruire la pianura E dico Bella Almeno mi paro il culo Ma Marco Stai giocando alla Pixelmon Perché sono così stupido ragazzi Non lo so Comunque Un altro Volcanion Ragazzi Questo è il signore del destino Trovere un Volcanion In questo modo Però chi scelgo Scelgo il Volcanion Ah Sono pure uno dietro all'altro Il Dienzi Non so Chi scelgo Chi scelgo Chi Scelgo il Dienzi Ragazzi Scegliamo il Dienzi Perché lo voglio disintegrare E abbiamo lancito contro Il Pokémon Credo più sbagliato Che ci possa essere All'interno del mio team Magari Se riusciamo a tirare fuori il Flygon E senza che lui ci attacchi Con un attacco che ci disintegri Vediamo Ok Non ci ha fatto più di tanto Riusciamo a fargli Per esempio Un Earth Power Che tecnicamente Li torrierebbe veramente molto Al Dienzi Che comunque al 95 L'ha tolto un tot Però il nostro Flygon In questo momento Morirà Lo sappiamo Perché ho sbagli Sembra premere il Salamence Sono troppo Stupido raga Dovete davvero perdonarmi So che alcuni di voi mi odiano Perché sbaglio Con i Pokémon Però ormai dovete sopportarmi Comunque tutti questi attacchi Non fanno nulla A questo povero Dienzi Che però un Double Edge Magari qualcosa Ne li può togliere Ma lui ci ha Completamente Disintegrato raga Ci ha disintegrato Allora Tiriamo fuori il Glastion Che è comunque un tipo di ghiaccio Un pochino li può fare Per esempio magari con Un Blizzard No eh Non è che rischiamo di ghiacciarlo È proprio 0 0 0 Vediamo il Dragon Se magari Ha un qualcosa di diverso Un tanto lui che lo paralizza Ci sta disintegrando tutti Grazie Dienzi Per il cuore Che ci sta mettendo Ma quanto è bello Il Kyurem Nero raga Oddio mio E là c'è anche un Odino Un Volcanion Un Odino Un Dienzi A 95 Davvero quando mi metto In modalità Ricerca di boss leggendari Ne trovo troppi Comunque un altro Glastiate Non ci fa fuori Ghiacciati Non sei ghiacciato Ma perché non ti ghiacci Ci fa fuori No Abbiamo attaccato noi E siamo stati più veloci Che noi questa volta Ma non credo che il Raichu Possa durare più di tanto Proviamo a fargli un Thunder Ok li ha tolto un pochino Lui ci sciotta No Thunder Ragazzi Il Raichu Ma che eroe è Con pochissima vita Tanta roba E poi che abbiamo ora L'Odino O il Volcanion Raga Chi vado a prendere Vado a prendere prima L'Odino Dai là in fondo È una luce Ok Un boss raro Me lo aspettavo leggendario No niente Non mi interessa Però l'altra volta Ragazzi Il Volcanion Ci è rimasto Qua in mezzo Perché non siamo riusciti A catturarlo Che ball abbiamo dietro Abbiamo solamente 6 Duskball 13 Ultraball E 2 Megaball Non faremo nulla Contro questo Volcanion Che è veramente bellissimo Cioè guardate qua Ragazzi ma l'episodio di cattura Di boss leggendari Di uccisioni Di boss leggendari O catture leggendari Quanto vi piacciono A me piacciono veramente troppo Allora Vediamo Magari con un Pikachu Oddio Con un Raichu Scusatemi Riusciamo a fargli qualcosa Allora So che siamo tanto efficaci Contro il Volcanion Però un Thundershock Tecnicamente non dovrebbe shottarlo Infatti ha tolto Un terzo della vita In più lo attacchiamo per l'ennesima volta So che tecnicamente In questi episodi qui Quando affronto Un Pokémon leggendario Dovrei disintegrarlo Lo so benissimo raga Però l'altra volta Già l'abbiamo fatto Col Volcanion Forse per esempio No lo shotterei di cattiveria Però in questo caso Vorrei provare a catturare Perché è segno di destino Che ci ripropone un Volcanion La Pixabon Quindi Prima di ignoranza Con una Duskball Così in pieno giorno Una Duskball 1 2 3 4 Preso un Volcanion Con una Duskball In pieno giorno Ragazzi ma Sono troppo Bagato Troppo strano Queste cose Davvero bellissimo Giocare alla Pixabon Forse anche se in destino Che non abbattitato giù Quella Odino Che è molto tenero Anche lui Per prendere il Volcanion Sono un sacco felice raga Perché questi episodi qui Mi diverte davvero tantissimo Giocarli E farli Gestare tutto quanto Quindi se piacciono anche a voi Mi raccomando Fatemelo sapere qua sotto Nei commenti Intanto qua Ci ha spawnato pure lui Che però è un boss Raro Vero caro Loppuni Non mi interessi nemmeno tu Però Eccolo qua Eccolo qua un altro ragazzi Un bellissimo Alakazam Che però è raro Dai Io so anche che siete molto curiosi Per quanto riguarda Lo scavo della palestra Che l'altra volta Vi ho mostrato ragazzi Però Dovete ancora aspettare un pochino Perché Ci sono ancora dei lavori in corso E guardate qua Mentre cazzo Giamo qua in giro Ragazzi Un agron Leggendario Questo me l'avevo perso Ragazzi Questo non l'avevo mai Mai Visto Ed è uno spettacolo Assurdo Raga davvero È troppo bello Ok Un agron È di tipo acciaio Se non sbaglio Tecnicamente il nostro flygon Dovrebbe fare qualcosina Però noi abbiamo ormai Sempre il vizio di mega Evolvere il salamence Quindi adesso Non c'è un bel lanciafiamme Tecnicamente potremmo anche Rischiare di bruciarlo E poi Nel caso ci facesse fuori Il salamence Che è una cosa Molto ovvia Tiriamo fuori direttamente Il flygon E con earthquake Potremmo tirarlo giù A parte che L'abbiamo anche bruciato Quindi sta anche subendo Un sacco di danno Un altro lanciafiamme Lui non ci attacca Molto bene Ci ha tolto pochissimo Tranquilli Riusciamo a fare Tutto quanto questo lavoro Anche con un semplice Lanciafiamme Del salamence Tanta roba Anche se comunque Guardate qua Quanto è bello Secondo me È una dei boss Più belli A parte gli occhi Che sono fatti Un pochino male Guardate qua Le zigrinature Se posso chiamarle così Molto strane Però è bellissimo Guardate che bei colori Ha Diamine Che spettacolo Comunque Un altro lanciafiamme E tiriamolo giù Però vedete Davvero Ci va a periodi Sta cosa Dei boss legendari Che danno le master Perché sono periodi Che tenendo Troppo in un botto E altri periodi Che davvero Ci mettono gli anni Per droppare una master Quello puniraro È ancora lì Davvero Ed eccolo qui L'ultimo boss Legendario Che sfideremo In questo video di oggi Un absole E qualcosa vi ricorda Ragazzi Vero l'absole Perché è stato Il primo boss Legendario A dropparci Una master Ball Ebbene sì Quindi ragazzi Oggi sfideremo Lui per l'ultima sfida Ai boss Legendari Il cacciatore Leggendario Di questa Pixelmon GX Vediamo un attimino Cosa potremo fare All'absole Per utilizzare Il giga Impatto Che ho Sul Raichu Però a sto punto Vi faccio un altro Lanciafiamme Anche se comunque Attacchi tipo fuoco Sono Un danno normale Per l'absole Però vedete Oh Stavo per dire Che è buggata L'animazione Però in realtà No Si è sbuggata Al volo Facciamo fuori Subito l'absole Raga Vediamo un attimino Chi attacca per primo Lui non ci ha attaccato Ma tiriamo fuori Il Raichu Raga Che anche se è al 70 Quasi Che dovremmo Livelarlo a 70 Quindi gli manca Anche poca vita Io gli faccio Un giga Impatto Speravo Reggesse Lo so raga Ci ho sperato Però fa niente Comunque Li tiriamo fuori Il Salamence Così si livellava Lo portava al 70 Per la palestra Top Masterball La chiama Ragazzi L'absole Gliela ridà Il secondo Absole Che mi droppa Una masterball Prendiamoci la raga E con questa Masterball Con questa seconda Masterball ragazzi Catturare Lunala E Sol Galeo In un prossimo Impatto Sarà veramente Un sacco facile Quindi Lasciamo un bel Mi piace Un bel commento Ragazzi Iscrivete Se ancora avete fatto Guardatevi Gli altri video Da Pixar Qua sopra Oppure Gli altri due video C'è il mio canale Anche per salirci Sopra Andare a vedere Altri video Qua davanti Da Mark è tutto ragazzi Iscrivetevi Asciutami un like Bella